6 7 ok perfetto un po' lunga per la scinta però non ti va bene Monti Monti vince Villani sul tappello 2 Bionini Galardini si preparino per la serie C 84 kg Bartoloni Simone Delle Monache Andrea e la serie D 84 kg secondo Pierozzo Andrea, primo Fubiani Cristiano Pierozzo Andrea e Fubiani Cristiano Grazie a tutti Pierozzo Andrea, primo Poggi Emiliano Grazie a tutti Poggi Emiliano Grazie a tutti Poggi Emiliano Grazie a tutti Poggi Emiliano Poggi Emiliano Poggi Emiliano